C'è una bomba che minaccia un bersaglio estremamente importante. È cruciale scegliere un punto d'ingresso che minimizzi l'esposizione al fuoco nemico e il tempo per raggiungere e disinnescare la bomba. Usare i rampini è il modo più facile per attraversare l'edificio, evitando scale e corridoi. Raggiunto il bersaglio, dovrai disinnescare una bomba carica di una miscela chimica ignota. Ha in dotazione un disinnescatore. Piazzalo vicino alla bomba per intercettare il segnale. Proteggilo mentre completa la sequenza. La missione è trovare e disinnescare una bomba. La missione è trovare e disinnescare una bomba. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.